resident evil 6 a tutti bentornati a resident evil 6 ecco e da mi da dalen da chris e da fierce ciao ciao a tutti ma che cosa sto io mi sto impegnando intanto ma eliminiamo i nemici poi dovranno cavarsi questa è un amico nemici ma non era così ma dove dobbiamo andare a dobbiamo aiutare sherry e jake non avevo capito sono lì sono guarda che stanno morendo e come vediamo aspetta aspetta così come mi è sparito un nemico ma anche me è nato o meno spero da jake attenzione attenzione stiamo aiutando attenzione che ricarico ricarico no 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 ho scoperto fino ecco perché è qui attenzione attenzione simile ho visto una cosa ma volare via è stato non saprei non ma non sono l'elicottero lo possiamo far fuori dove sono copriteli elimina coprire lì sì tu sei lì sopra ok ma perché non muoiono allora o non muoiono o muoiono instant tv posso dire sono un po confusa ma io ero impegnata a fare un'altra cosa questo questo qui è chi era questo è un grillo è un grillo saltante ma cavalletto ma dove è l'elicottero io stavo facendo dove è l'elicottero dove l'elicottero l'elicottero va di via l'io a guardate se si può avevo tutto sotto controllo senti il seer tu non fai proprio una città posso dire ovvero finiti colpi sta morendo sherry credo capito vabbè basta non ci provo più chi è che sta morendo attenzione aspetta aspetta e non riesco più a vedere i nemici da qua posso dire ecco aspetta no è saltato la cavalletta maledetta ma è partita sherry cioè sherry è morta ma chi è che spara ma dai oh questo mi serviva ma io non so cosa dobbiamo fare allora io sto sparando a questo che ci sta venendo incontro qui tu spara quelli lì però se mi resti magari fai no ah no si è da arrestare dobbiamo andare lì attenzione 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 c'è uno c'è uno dove acqua ma dobbiamo andare di qua no yes oh ma to to spara flasciato la la camessa muori su sull'eligottero sull'eligottero eh sì oh mamma ma sei sceso ma guardate ma ti serve la pistola adesso ma io non ho più proiettili come faccio eh bisogna ammazzare questi per riuscire a recuperare qualche proiettile ok ok allora l'eligottero 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 ah l'elicottero ok ma chi la last one chi è sull'eligottero eh cazzo no non c'ho più colpi l'hai preso sì uno sì l'altro no e non c'ho neanche più colpi no no sta sull'elicottero ah ancora io mannaggia lui no porca miseria non ho più colpi io dico ma si sono danni che razzo fanno ma vi volete muovere aspetta aspetta che lo vedo da qua e buonanotte no vai andare andare no ce li hanno ammazzati capuzzo è affasciatissima mi sa di sì no l'eligottero si ritira l'eligottero si ritira dai ce l'abbiamo fatta senza motivo no senza motivo io li ho uccisi quelli che stavano sull'eligottero tu non so che stai facendo sgombriamo sgombriamo facciamo esplodere la porta pronti ok ok allora andiamo all'obiettivo ma non stanno facendo niente questi ah mamma che silenzio un po' di pace sembrano dei grilli dei grilli eh ce ne siamo accorti ma se non fate una cippa voi i cretini chi è? perché so damose non c'era niente da prendere no abbiamo cioè siamo veramente accorti di qualsiasi cosa ah meno male meno male oh bene oh 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 finalmente ricarica tutto pierce che abbiamo tanto bisogno questo no ma io questo che razzurica hai caricato una cippa? non ho mandato colpi c'ho cinque colpi di pistola siamo pronti? e purtroppo è un po' scarso di munizione oh però c'è un'arma lì molto dove? qua 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 vieni vieni prendi prendi ma io c'ho uno spray medico l'elicottero è qui per finire il lavoro ah mo ci mezzo io l'elicottero perché ho preso i volpi per il lanciagranate ma dove? e qua sopra non possiamo salire aspetta un attimo perché forse c'è roba da prendere qua abbatti l'elicottero ah ok dobbiamo abbattere l'elicottero allora ok allora lanciagranate dov'è l'elicottero? no ma non tu ma cosa? ma dai ma non ci credo ma chi è? chi è? chi è? oh no ma che è successo? ma mi hanno ucciso mi hanno ucciso venghi venghi qui venghi qui guarda quanto sangue che sta perdendo Pio venghi qui non si preoccupi dov'è l'elicottero? no devo ma basta ma non è possibile io ti devo far fuori sei visto? sei sei visto? ma no ma no ma che è successo? sta cercando di abbattere l'elicottero e intanto muoio pure io ma i soldati fanno qualcosa si gran coglioni posso dire? dov'è l'elicottero? oh ma vaffan cuore ma vaffan cuore aspetta aspetta che arrivo hai per curarti ma non c'è una ceppa non c'è una ceppa non c'è una ceppa l'ho abbattuto guarda l'ho abbattuto ho abbattuto l'elicottero morite tutti morite no via maledetti infatti aspetta dove è l'elicottero? dov'è l'ho abbattuto ok ucciso forse non l'ho abbattuto del tutto aspetta che sta tornando lo devo abbattere meglio aspetta ok olè dai ok no siamo morti pure noi siamo morti tutti e due tu sei morta io ho letto la rappata sono morta ho sparato due colpi e niente e da dove dobbiamo ricominciare? vabbè però ragazzi fate qualcosa di voi siete proprio delle pippe posso dire? ok prendiamo prendiamo allora aspetta andiamo eh sì ho capito Gigi mi ricevete? qui alfa l'elicottero ci sta puntando ascoltatemi tutti tirate giù l'elicottero io io mi occupo dell'elicottero come no e tu ti occupi dei dei grilli qua via uno due tre tu stanno i grilli che mi vedo eh t'hai visto t'hai visto dai ricarica Pierce ricarica ok un grillo fatto fuori però qualcuno mi fa tirare qualcosa dai no chi è? chi è? chi è? l'attrezzatura giusta per far fuori l'elicottero? eh sì sto colpendo l'elicottero però non sta non sta non stanno succedendo così belle è bello intanto mi sta massacrando a me l'elicottero quindi io vorrei sapere cosa stai facendo ma dov'è? ma no e sono morta di nuovo cioè ma io ma cosa stai facendo? no ma non è possibile facciamo così tu pensi ai vermiciatoli e io penso all'elicottero che ho lanciagranale e anche io c'è un lanciagranale eh ma evidentemente c'è la mina la mette smicchiata no l'ho beccato un sacco di volte non vuole non vuole cadere non vuole cadere stiamo giocando a normale eh poi non so quante volte quante volte devo colpirlo vabbè dai io mi occupo dei grilli allora per finire il lavoro però aspetta un attimo anche noi possiamo scendere eh possiamo scendere ascoltatemi tutti tirate giù l'elicottero fatelo a pezzi aspetta no allora sì possiamo anche scendere ma perché adesso non ho le non ho le munizioni ma io le ho prese no oh mamma mia cioè qui ci stanno pure cioè io sto giù a combattere con un nemico ma tu ti rendi conto? un nemico di sotto? eh ma chi è? ma che ne so uno no no non va bene non va bene cretino allora aspetta un attimo oh ti hai visto ma io ho preso l'emunizio cosa sto facendo mamma mia mo 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 c'ho emunizioni aspetta 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 oh maronna scendi giù scendi giù riparati riparati scendi scendi giù scendi no eh non rischio a scendere mi sparano scendi 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 devi scendere perché qui siamo arrivato ok oh mamma eh buonanotte ho fatto fuori ho fatto fuori ho fatto fuori allora riprendo questo orca miseria che razza era adesso cretino no se n'è andato se n'è andato adesso fa il giro eh adesso fa il giro vediamo vediamo vengo su uh stanno arrivando due crottini a posto a posto gli ho dato tutto a stocca ah l'hai colpito ottimo dai io l'avevo colpito un sacco di volte al giro scorso eccoli ti hai visto che inizio che inizio va va che sguardo tra i due è zio chris è zio non possiamo lasciarli andare la nostra missione è eliminare le armi più organiche ma la nio ambre la lice dovremmo che la nostra missione è eliminare le armi di organiche eh pierce ascoltalo eh pierce io ho sempre ragione seguo quell'arma di organica adano se la caverà stavolta aspetta capitano pensaci ma lascia fare lascia fare che ada ci pensi non mi hai lasciato finire di parlare non fai niente che pensi mi quadra alfa qg inseguiamo il bersaglio ok trova la bov eh adesso vedi che bella che è la bov non si può morire così ma andiamo sì sì un attimo stavo stavo facendo un memoriale per il caduto cioè posso dire ma lei è veramente insensibile io boh via libera via libera di che fatemi spippolare un attimino in giro per vedere se ci sono munizioni che io sono a cotto cotto di munizioni non c'è una ceppa qui la violenza e poi dopo con l'elicottero non trovi niente cretini guarda eh il bersaglio eh that's the target ma non l'hai ancora visto Chris eh perché non è stupido te capitano eccomi scusami stavo guardando il tuo di dietro eh beh certo poi di ma questa non è la location dove stavano Lion e Elena no eh ci sono passati anche sì anche loro per un po' ma guarda questo guarda come more questo è da solo uno scemo eh t'ai visto va che roba nessuno rimane indietro c'è il il basilisco invisibile eh ma quello si è perso il discorso del capitano secondo me eh nessuno rimane indietro eh perché punti la pistola contro qui eh ma è spaventato ma è spaventato eh lui è preoccupato perché tu vai avanti da solo questi sono i miei uomini o segui gli ordini o troverò qualcuno che lo faccia ti rendi conto di quello che dici guarda che non ti sposa più eh chris mettiti in riga soldato murtà come si permette perentorio esalare l'ultimo respiro perché si è cagato addosso perentorio verso sto zitto e muoviti mamma mia che cos'è e Ethan ne sa qualcosa anche della brutta l'ità di Chris no Keaton chi era chi lo conosce ma chi è su Keaton avevo capito Idan boh vabbè Idan del Resident Evil 7 io stavo parlando di Idan eh sì anch'io stavo parlando di ah ecco appunto però questo è Keaton è qua qua dobbiamo andare capitano qua ok la la uh c'è una cassa c'è una cassa attenzione uh ti hai visto ti hai visto occhio che questo qua è invisibile e quindi no ma che me vuoi dire che sta qui con noi questo eh ogni tanto compare bisogna stare attenti oddio non mi ricordo neanche come si ammazza sai no troppo uh ok adesso non ti ricordi niente eh bravo niente eh ci deve essere un modo poi dopo nella location in cui dobbiamo combatterlo vogliamo accendere un cero qui all'altarino esatto venga venga non lo vuoi accendere un cero che ora lo troviamo ah sì adesso mi ricordo eh ma ti ricordi come succedeva yes sì bisogna attivare una cosa per elettrificarla però non mi ricordo se lo dobbiamo fare insieme o se lo deve fare uno solo di noi due ma spero che sia tu ok 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 quindi troppe ma c'è allora capitano mi serve una mano dai dai spieghiamo spieghiamo spieghilo ok ok dai caliamoci caliamoci con calma circospezione è un altro dato io ho detto con calma circospezione vero eh eh la calma e la circospezione non sono proprio i loro fuori ho capito però tutti a rapporto sono divisi sono al secondo piano no e io come faccio adesso è scomparso calmati Marco dove ti trovi Marco eh per favore oh merda credo che quella cosa sia qui il bersaglio è al primo piano venite tutti qui ma che te urli che poi ci scopra noi io non voglio che ci scopri Chris io ehm sono preoccupatissima perché lo sento sibilare Reed sto ricaricando è morto anche Reed santo cielo santo cielo è morto anche Reed mannaggia mannaggia chi era ma non lo so allora io salvo io morirò te lo dico che morirò da questo quarto ma no non ti muovere Marco resta in posizione non ti muovere non ti muovere questo sibila 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 ma io voglio andare lì sto salendo ma posso non posso andare resisti sto salendo ah sì di qua lo sento lo sento capitano aiuto capitano capitano dov'è niente Pierce no niente perché mi hai chiamato perché c'è una porta da aprire quindi tu devi venire giù io non posso venire da te se non vieni qua e aspetta eh ma ah ok allora devo muovermi per forza da questa parte credo che tu debba arrivare da ok forse non so da dove devi arrivare ma da qualche parte devi arrivare mi sono spaventata tantissimo scusa ma aspetta Pierce 10 9 8 ah qua 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 ok sto aprendo la porta 8 7 8 7 7 8 apri ma che apro se so aspetta a te ah non devo aprirti la porta ma no devi dirmi ma io boh a me eh ci ho messo il mio tempo oh beo eh mamma mia che cos'è ma questo è trasparente va bene adesso dobbiamo seguirlo seguiamo c'ho sette golpi di 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 lanciagranade e facciamolo fuori cracchiamolo cracchiamolo cracchiamo il B.O.W. cracchiamolo dai e cracchiamolo come si cracca eh come si cracca cracca vediamo rintracciare Jeff Jeff anche Jeff l'abbiamo perso non la smette capitano di andare in giro a correre per favore oh my god sto facendo esercizio allenamento eh ma vicino al cadavere ho capito ma Jeff sta sempre in mezzo ai piedi io boh ma vuole premere quel pulsante per aprire questa porta ma non mi dava il comando guardate il video gira non mi dava il comando qua c'è la prima la prima battaglia mi sa come la prima battaglia ma eh ce ne sono due preferivo quando c'era il bug che non si vedevano in indici ragazzi però siete un po' troppo tranquilli tipo un'isolation sealing adesso è venuto in mezzo sei stufato di perdere uomini Chris poi al matrimonio non ci va nessuno eh no fatti dai adesso oh c'hai dentro che si muovono Chris eh dai no Chris però che è successo eh ti devi coprire eh è Chris però è Chris ah guarda dove lo vedi comparire ma ok poi bisogna sparare dove lo vedi ok sto sparando con lancia granate esatto anch'io ecco ecco qua Chris arriva vai oh ok hai ucciso i miei uomini hai ucciso i miei uomini maledetto maledetto non c'ho più colpi maledetto di lancia granate ancora? sì ma guarda che parla parla in serpentese sta parlando in serpentese è come Nelly Bottle Nelly Bottle dai no no non da me vai da lui che è più forte ok come vai da lui che più forte ma cosa dice no vedi da Chris da Pierce vedi da Pierce ma dov'è ah sei qua ok mi ha preso aspetta non lo vedo più oh dai dai Chris mamma mia che che ricarica rallentata ok adesso scappa perfetto questa è la prima si è andata di là ok è andata di là eh ce ne siamo accorti adesso non so come ti chiami tu eh questo qua che ci sta parlando ok dammi andiamo nelle ciapette sto qua dietro a guardare le ciapette no no mi stanno portando via io ho finito i colpi aspetta lancia granate lancia granate con cosa lo colpisco sto cretino lancia granate ciao Chris ciao ciao Pierce ciao oh che belle ciapette che vedo Chris stiamo andando lei sta andando io sto andando a contrario è stupendo è bellissimo da guardare mi consenta una circosprezione bravo bravo dicio la voglio vedere dicio pet ecco lancia granate non mi portare via Pierce non mi portare via Chris sto sparando sto sparando hai sparato anche a me cosa stavi facendo non so mi stavo ricomponendo perché mi ero un attimo distratto dove? dove? ah eccolo qua arriva 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 no colpito ovunque non c'ho più colpi non c'ho più colpi c'ho 18 colpi eh lo so nemmeno io ci dessero i colpi per il lancia granate almeno uh io ho queste quella cosa è qui chiudiamo lo so Chris chiudiamo 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 come sta zitto ma come ci dobbiamo sposare e dice cose ovvie ma io bo e dice cose ovvie è andato questo è tutto il suo amore allora attenzione dove dobbiamo andare? mi sa che dobbiamo proseguire perché qua non viene più il bio w mi sa che è di qua di qua? di qua a due ok da questa parte adesso verrà qui ah ecco ecco qua 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 eccolo eccolo qua vai no ho buttato la bomba ma manca poco come fai fuori cioè io lo so ma mi sa che non ci arriva ma il matrimonio te lo dico ah non devo andarmene? no devo rimanere? si lo ho affrontato io un attimo allora ok facciamo questo arriva? eccolo attenzione dai egris ma vai morire non c'ho più colpi stavolta stavolta l'ho preso stavolta l'ho preso mi sa che adesso compare si ricompare di pensavo di no e ma un'altra volta sì un'altra volta ok dov'è? dov'è? no 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 dov'è? ti hai scappato? qua sotto mi sa che ho più ogni volta non c'ho più cure se mi colpisci un'altra volta sono morto mi sa che dobbiamo andare no c'hai ragione mi sa che dobbiamo andare di là di qua? ok eh sì è scappato un'altra volta non hai più cure aspetta aspettami un attimo fermati 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 fermo lì aspetta allora qua aspetta no e come cavolo lo prendo? oh così te grazie amore grazie sono tutto sano adesso non voglio assolutamente che tu muoia c'è un sorcio ti disse c'è un sorcio c'è un sorcio che ci dice di restare dove siamo attenzione ma questi punti però ve li potete pure tenere oh c'è un po' di roba prenda è andato seguiamolo com'è andato? cioè vabbè però con tutti i colpi che gli abbiamo dato io boh oh è qua ah guardi è qui troviamolo ok quindi non è qui dove sarà? ok c'è un po' di cure e dove lo troviamo? qua non ci sono altri posti seguiamolo avanti uh no avanti non si va e tu eeeh ma scusami dove andiamo? dove andiamo? da qua? ma forse dobbiamo torner indietro torniamo indietro? eh sì forse ah ok quindi qua mi sa che c'erano solo risorse da prendere perché qui c'ho zero sono 20 devo ricaricare ma io boh ma voglio dire ma Chris ma non puoi ricaricare nei momenti dove devi sparare Cristoforo Colombo oh siamo ritornati insomma è veramente guarda ok è una fatica insomma è una fatica ah eccolo qua eccolo eccolo eh t'ho beccato bene stavolta disgraziato che poi mi stai anche simpatico mi dispiace pure ammazzarti però ti vuoi mangiare mio marito? voglio dire eh appunto cioè posso dire no no aiuto no 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 oh dai c'è la gazzine te ne vai a fare l'ovo dentro i quarti della palazia addosso ma addosso te che cretino andiamo 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 a prenderlo c'ho 20 colpi su quest'arma ah vabbè forse mi da meno zero carica nel senso che non c'ho più colpi eh sì quando quando non hai più colpi di riserva dovrebbero essercene però in canna si ci stanno ma sempre con me te la prendi però nella monnezza siamo finiti nella monnezza oddio e mo sconfiggila bov bov ok quindi adesso dobbiamo dargli la scossa elettrica come vi fanno proviamo qualcosa che lo faccia ok dobbiamo ok dobbiamo andare a dar corrente sì eh vabbè ho capito però lasciaci lasciaci mi ha preso le cioppette posso dire vabbè vado 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 corro 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 qui vado salgo 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 ok vado da qua ecco esatto olè ah ok lo devi ok io adesso vado a rimettere il ah marco lo fa va bene si pensa io marco fai qualcosa fai una cippa io boh lo muovo tutto noi bravo no marco è morto vabbè cioè muori per la causa è andato no devi aspettare che passa no puzza affacciadissima e mo aia 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 vedi che però è bruciacchiato quindi abbiamo fatto bene allora adesso c'è da aspettare che si ricarichi ok perfetto adesso aspetta che passa e poi tira di nuovo no ma perché su ma non deve salire su ma fatti perché boh ah ok allora dov'è 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 che passa eh dobbiamo aspettare che passi eccolo eccolo no ma sale su sto disgraziato ma perché sale su scusa non lo so senti vai vai giù vai giù vai giù vai giù vai giù devo vai giù devo farlo farmi inseguire sì sì mi faccio inseguire io però mi devi lasciar passare cretino vieni vieni davanti a me vieni davanti a me adesso adesso ok eccolo eccolo vieni vieni no 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 qui 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 cretino vabbè ma che cazzarola ma è stupido ma sono morto ma non ci credo ma non ci credo no sono morti tutti e due sono morti capitano sta città captain ogni tanto ti chiamo captain ogni tanto ti chiamo chris eh niente allora dobbiamo dobbiamo aspettare che passi lì però io ti devo fare gli devo fare da esca al cretino allora ok allora ok vediamo aspetta no infatti non lo scalfiscono no troviamo qualcosa che lo faccia scusa ma a me ogni tanto diventa nero lo schermo adesso appena ritorno non ti non ti preoccupare proprio ok ci siamo allora saliamo qui prepariamo ma città ci sta ci tua allora vai vieni su che adesso dovrebbe passare vai ok ok perfetto adesso Marco dovrebbe rimettere cosa sta a fare ci penso io che pensimi e adesso io vado giù a povero Marco vabbè Marco si è sacrificato per la causa l'odia Marco resti lì lei che io vado a vedere se riesco eh ma questo sta su ma perché sta su eh perché deve deve seguire adesso deve seguire qualcuno aspetti eh no no giù mmm Pierce stia la leva lei dov'è ah eccolo eccolo tira tira la leva tira la leva eh ha tirato guardi ok adesso vediamo se riusciamo a rifarlo aspetta eh provi a rifarlo adesso dovrebbe seguire è rosso è rosso ah ok ok oh ottimo dai dai probabilmente hai dato la scossa anche a me però va bene alleluia fatto abbiamo da mangiare stasera dai ah ma è vivo Marco 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 ma come trecca da Wong come se vi è da Wong seguiamo andiamo a vedere se Marco sta bene ma chi se ne frega vero è importante che siamo ben noi Marco guarda che vado a vedere se Marco sta bene Marco tiratemi su ah ok Marco tiro su anche te ma non potevo farlo io povero Marco non lo so dai Marco sei il top allora uh c'è una ervetta rossa qua non posso combinare con niente oddio ma cosa stai facendo che si è successo ho prezzo vuoi vedere che cosa devo andare di qua damo niente Ada niente Ada eh vabbè anche tu non ti fissare con Ada dai andiamo damosi 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 dovremmo aver fatto eh e quindi è una follia non siamo al sicuro qui dobbiamo andarcene capitale questa è Ada eh infatti benvenuti in cena mamma come ti odio aspetta però questa non è Ada no Marco no però Marco no non è la vera Ada Marco eh wait Chris dobbiamo uccidere Marco Marco eh uccidilo dai oh mamma ha tirato fuori tutte le apine e adesso come le tiri come le facciamo fuori Marco le apine Marco guarda oh madò è il volo del calabro ehm dobbiamo aspettare che diventa ecco diventa così attenzione attenzione ok adesso tocca a lui ah no ci ha lasciato guarda ma come ha fatto Marco a lasciarci il C4 e che ce l'aveva addosso grande Marco ti sei significato Marco oh te oh e non dare i cazzotti al C4 Chris cartino esplosivo C4 di Marco ah quindi Marco venga a prendere roba e adesso c'è da mettere il C4 lo metta aspetti aspetti guardi chi c'è la tua roba deve mettere qui ma io non so cioè ci stanno le skills si infatti questo gioco è strano perché dà molti punti ma poi non dà le munizioni e il bello è che non ti puoi comprare le munizioni coi punti quindi ah con che cattiveria ha messo il C5 terzo allora però dopo tutto questo dopo tutto questo il ristorante lo scelgo io eh eh beh sì hai il diritto eh beh adesso ti spara sta zitto ma c'è ragione però ancora della nostra missione occhio che adesso ti picca sta zitto piaccia per tutti gli uomini che sono morti credendo in te oh mamma mia che è successo il leggendario Chris Redfield eh che ti è successo per fortuna Finn non è qui a vederti ridotto così perché proprio Finn ha citato eh perché era il novellino della squadra al tempo bacio bacio vado a cercare niente Pierce Chris Alpha leader ma va cagé Chris qualcuno deve tenerti d'occhio che tu lo voglia o no eh se l'hai capita Chris allora io scelgo il ristorante e anche il menù per il matrimonio eh dopo questo dopo tutto ciò dopo tutto questo ma nemmeno salva ma nemmeno salva dobbiamo andare avanti verso il porto abbiamo litigato l'obiettivo Adawong è stato individuato va a sud verso il porto la vogliamo viva viva abbiamo litigato come se non ci fosse un domani domani salva niente niente forse adesso salva io poi che ci sto dietro anche guarda forse adesso salva dobbiamo già andare dal consulente matrimoniale oh ti consiglio di non starmi tre ecco passi i limiti ancora non ci saranno problemi mamma mia Chris che cosa quando ti decidi a capirlo non sono così stupido da cadere nei suoi tranelli abbi fiducia nel tuo eh dovresti essere Leon per essere così stupido ma infatti va bene allora io direi che la caccia a Adala rimandiamo al prossimo episodio e interessante comunque si sta facendo interessante penso che siamo sul finale ormai no eh mica tanto mica tanto no no perfetto quindi ancora c'è tanto da spippolare da sparare e soprattutto litigi amorosi tra Chris e Pierce che dobbiamo sanare in qualche modo dobbiamo sanare perché insomma fino adesso dopo quello che è successo io ho già detto che devo scegliere ristorante tè e menù per il matrimonio ok va bene così mi faccio perdonare esatto cosa che sceglie bene per favore sì non si preoccupi tutte cose che lei non mangia per cui apposta immagino ecco allora detto questo io e Len come Chris e Pierce vi salutiamo e vi aspettiamo per il prossimo episodio ciao a tutti ciao ciao